Come può il Signore scegliere proprio quell'uomo che è bene scartare, che è bene non tenere in considerazione, che è poco credibile, che è un esattore delle tasse, che si approfitta degli altri, che pensa proprio solo a sé? Ma il punto è proprio questo, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, e il Signore si serve di loro per far mostrare la grandezza della sua misericordia, è la misericordia di Dio il distintivo dell'operato dell'uomo scelto da Dio, non la sua bravura, non la sua capacità, non la sua perfezione morale, Perché un uomo che a un certo punto si converte per la misericordia di Dio e percepisce di essere prigioniere del Signore, costui porterà al Signore un botto di gente, che il Signore ci doni di essere non dei farisei, non dei perfetti, ma nella misericordia che sperimentiamo nella nostra carne, mostrare l'opera di Dio agli altri, l'evangelizzazione passa tramite questo. Buona missio